Realme Buds Air, eh già, finalmente abbiamo un player competitivo nel campo delle True Wireless non in-ear economiche Eh già, perché sicuramente vi ricorderete video sulle i10, sulle i80, sulle i500, eccole qui, i famosi cloni delle Airpods Eh già, perché fino a qualche mese fa, fino a qualche settimana fa, non c'era davvero competizione sul mercato delle non in-ear True Wireless E quindi sì, dovevamo ricorrere a soluzioni come queste, comunque non erano malvagie, ma spendere 50€ per un clone Che non sai mai quanto ti durerà, perché non c'è un controllo qualità pazzesco di un'azienda dietro, sono sempre cloni un po' così Poi c'era sempre qualche limite come i microfoni che non funzionavano benissimo, costruttivamente c'era qualche modello che usciva un po' affalato Insomma, non erano affidabili a 360 gradi E proprio due video fa, infatti, vi ho raccontato di come alla fine io ho scelto le Free Buds 3 di Huawei Come le mie cuffiette True Wireless, non in-ear personali, perché loro offrono dei microfoni davvero pazzeschi Ci posso chiamare in monopattino, nelle peggiori situazioni che vi vengono in mente Però sono delle cuffiette che costano Non tutti vogliono spendere 120-130€ per delle cuffiette True Wireless Non tutti hanno la possibilità economica E quindi si cerca sempre di risparmiare, soprattutto quando c'è un rapporto qualità ottimo E beh ragazzi, queste Realme Buds Air potrebbero fare al caso vostro Sono molto interessanti, parliamoli Come sempre direi di iniziare dal prezzo Anche se credo che molti di voi sono finiti su questo video grazie al prezzo che vi ha intrigato E quindi volevate sapere come vanno nell'uso quotidiano Beh, comunque parliamo di circa 45€ con l'ultimo coupon In questo caso parliamo di Headway Buy, dove le ho prese anch'io Spedizione da Europa in qualche giorno con Corriere Espresso Quindi super E ci arrivano proprio in questa scatolina che avete notato proprio nella copertina di questo video Molto carina, minimale, con questo giallo, scritte nere Sul retro ci vengono mostrate anche le caratteristiche fondamentali Come una bassissima latenza grazie anche alla modalità gaming La ricarica wireless o comunque tramite Type-C Abbiamo l'autopairing di Google e un Bluetooth 5.0 Quindi a noi ci basta aprire il coperchietto e loro già si connettono al nostro smartphone Quindi abbiamo un pairing molto molto rapido Abbiamo anche i sensori di prossimità, quindi abbiamo l'autoplay e pausa Abbiamo dei bassi super potenti, da quello che dicono loro, vedremo dopo Vabbè Marco, ma alla fine che ci frega della confezione Faccio vedere le cuffiette Beh, quale delle due saranno le Realme Buds Air? Se ve le apro sicuramente le riconoscete Eh già, loro sono le Realme Buds Air Loro sono le i500, il clone insomma delle AirPods Lo notate perché ci sono subito questi sensori a vista Il case è un po' diverso Magari ve lo metto vicino Le Realme Buds sono più cicciotte Cambia anche il coperchietto C'è anche qualche differenza estetica sul case E poi anche sulle cuffie Adesso analizziamo tutto Notiamo qualche differenza Soprattutto nel coperchietto Nel meccanismo di apertura Notate che qua dietro è la parte che è mimetizzato Rispetto alle Airpods dove invece è bella vista E sui clone è anche un po' brutto Perché è in una plastica sempre fatta molto molto male Quindi preferisco tutta la vita Nascondere il meccanismo di apertura e chiusura E comunque proprio il coperchietto è fatto bene Quando si apre completamente Rimane super stabile Se invece lo chiudiamo si chiude molto semplicemente Anzi diciamo anche troppo semplicemente Quindi tutto aperto ok Appena cala un po' Bam Si chiude subito Rimane comunque tutta la vita migliore di questo schifo delle i500 Non andate come balla davvero C'è zero resistenza Brutto Una differenza che possiamo notare è anche il led Che sulle Realme Buds Air È praticamente sotto la plastica Fa un effetto carino di fusione Mentre ovviamente sulle Airpods Sul clone è bello diretto insomma il leddino Tra l'altro abbiamo il tasto di pairing Sotto c'è la Lightning Sul clone Mentre qui abbiamo la Type-C Vi lo stavo dicendo in precedenza Secondo me la Type-C è tutta la vita migliore Per chi come me non ha un iPhone Rispetto alla Lightning E qui anche abbiamo il tastino Per il pairing frontale E se ve lo clicco Potete notare anche il led Magari che switcha Sull'arancione Vi ho detto del pairing immediato E beh vediamo se è vero Apriamo il case Eccolo qui Si sono connesse Notate da sole Quindi basta aprire il case E già si connettono Poi le estraiamo E ovviamente andiamo ad ascoltare Il nostro contenuto multimediale E proprio estrarle è molto molto semplice Come potete notare E si indossano Altrettanto Semplicemente Però anche le cuffiette Hanno qualche differenza Dalle Airpods A mia sinistra La Realme Buds A destra il clone Delle Airpods E come potete notare Ve le sto Girando un pochino Le differenze ci sono Sia di dimensioni La Realme Buds È un pochino più cicciottella Sia anche in qualcosa Come la posizione Dei sensori I microfoni La parte inferiore Il gambuccio La notate che qui è piatto È anche un pochino più cicciotto Leggermente Come lunghezza Invece siamo praticamente Alla pari Parlando della cosa fondamentale Ovvero la comodità All'interno dell'orecchio Perché alla fine Questa cuffietta Dobbiamo tenerla Per due Magari anche tre ore Consecutive Quindi deve essere comoda Beh Allora La Realme Buds È praticamente Alla pari Delle Airpods O delle copie Delle Airpods Insomma Perché alla fine Si indossano Praticamente Uguali Sì c'è qualche piccola differenza Lei è leggermente più cicciotta Magari lo potete anche Notare Proprio come sta All'interno Dell'orecchio Però ha lo stesso vantaggio Della Airpods Che se io la spingo Se io la tiro Rimane ancorata Perché non crea Un buco qui Come invece vi raccontavo Succede Con le Free Buds 3 Che notate Qua c'è proprio un buco E c'è stato questo gioco Piano piano Bam Se lo avevano molto semplicemente Rispetto ad esempio A queste Realme Buds Che una volta Posizionate Stanno molto fisse All'interno Del nostro Uncchio Le ho collegate un attimo All'oppo Per farvi notare Che come codec audio Arriviamo massimo All'ace Quindi non abbiamo La PTX E vabbè A questo punto Sfrutto il telefono Tra le mie mani Per parlarvi anche Delle gestures Come andiamo ad interagire Con le nostre applicazioni Multimitagli E quindi con le cuffiette Beh Doppio tap Mettiamo in pausa Con un doppio tap Anche sulla sinistra Mettiamo sempre In play o pause Quindi Doppio tocco Parte Ok ci siamo Ogni tanto Ci perdiamo Qualche piccolo tap Dovete farli belli Decisi Se faccio un triplo tap Passiamo alla successiva Ma in realtà Anche se ne faccio 4 Cioè se continuate a tappare All'infinito Schippate comunque traccia Vi mostra a questo punto Anche i sensori Di prossimità Che funzionano molto bene L'ho levata Si mette in pausa La rimetto E si mette play Si c'è qualche piccolo secondo di ritardo Però insomma nulla di che La cosa importante è che alla fine funziona Possiamo poi tenere premuto Sia sulla sinistra che sulla destra Per far partire L'assistente vocale E ovviamente poi funzionano i microfoni Delle nostre cuffiettine E altrimenti possiamo Tenere premute entrambe le cuffiettine E sentiremo praticamente Un rombo di motore Di macchina E praticamente Questo ci segnala Che attiva la gaming mode Se poi andiamo a rifare La stessa cosa Sentiremo un suono Tipo una mezza orchestra Una roba strana E ciò significa Che torniamo alla modalità classica Ma a che serve La modalità gaming? Beh Uno Se andiamo a giocare A qualche titolo Abbiamo meno delay Tra l'audio E il gioco Questo significa Che se giochiamo a titoli online Abbiamo anche ovviamente Meno ritardo Proprio nelle nostre azioni Perché l'audio Vada anche ad inficiare Spesso proprio sul ping Anche di gioco Ma anche se andiamo a vedere Qualche contenuto In streaming O video su youtube Con questa modalità gaming Abbiamo una differenza Tra parlato e audio Che è davvero Quasi inesistente direi Vi faccio vedere qualche esempio Io ancora ad oggi Ci regala tante soddisfazioni Perché voglio parlarvene? Beh perché Voglio mostrarvi Come un telefono Se aggiornato bene Se concepito bene Dall'inizio Ok però ora passiamo A quello che conta Per la maggior parte di voi Ovvero la qualità Effettiva In ascolto Insomma la qualità dell'audio Questa alla fine È la mia classifica Peggiori Intermedi E migliori Cioè le FreeBuds 3 Sì costano il doppio Ma comunque rimangono uniche Soprattutto Quando andiamo ad ascoltare La musica al 100% Abbiamo ancora Quell'effetto 3D Tridimensionale Che queste Realme Buds Non riescono ad avere Ecco insomma Provo da farvi ascoltare qualcosa Ma comunque non è verità Al 100% È difficile Farvi sentire 100% La qualità audio Di queste cuffiette Tramite una registrazione Di microfoni E beh tutte queste cose qui Però fidatevi Che sono buone Migliori dei cloni Molto migliori dei cloni E vi dico anche Che per la qualità audio Non pagherei comunque Il doppio Per queste FreeBuds 3 Quello per cui pagherei Il doppio Sono i microfoni Sì i microfoni Ragazzi Tra queste FreeBuds 3 E queste Realme Buds Eh sì Cioè c'è una bella differenza Ascoltiamoci qualche chiamata Allora Ti chiamo Dalle Realme Buds Air Che vabbè Cuffiettine Circa 45 euro Per fatti capire Più o meno Il target Come mi sente Se sto in esterna Non è che posso Girare in giro per il mondo Però insomma Questo è l'ambiente Più caotico Che posso Visitare Come mi sento Sto camminando un pochino Mi sento Abbastanza chiaro Non Perfettamente Distantino C'è qualche rumore Tipo un laghetto Qua dietro Insomma Però mi senti chiara La voce Un rumore di fondo Un rumore di fondo E non ha nessuno Cioè Buono E quindi voi mai Presti una macchina Due macchine Qualcosa No no Neconda chiamata Sono con il Buon Tommaso Che lui sta sempre A telefono Lui è un imprenditore Famosissimo Non so Dire Ma insomma Di più E va bene Comunque Ti fai molte chiamate No E mi stavi dicendo Prima Come mi senti Più o meno Come valuti Queste cuffiettine In budget 40 euro Che meno siamo Quindi Se uno Ti chiama Queste cuffiette Si può fare Non si può fare Gli attacchi Stereboli in faccia No Dai Scherzi Sicuro No Ci sentono Bene Diciamo Un filino Vottato Però Ci sentono bene E io Come In linea di massima Potrei anche Consigliarle Sinceramente E metto Nella lista Tipo ora Stai passando qualche macchina Sul retro Hai sentito casini Impicci Un po' Di No no Ti dico Un pochino Pattato Sì un pochino Però la voce Arriva bene Si capisce bene E che è quello importante E il resto Insomma E quindi avete ascoltato Qualche situazione Tranquilla Perché loro La loro criticità Esce fuori Quando c'è molto rumore Perché la cancellazione Del rumore Non funziona bene E i rumori Non vengono molto cancellati La nostra voce Viene un pochino Modificata Ma più che altro I rumori sono belli presenti Per esempio Stavo in cucina Stavano facendo un casino A fare preparato Orte e robe E sì Dall'altra parte Sentivano un sacco Un sacco di casino E per quanto riguarda La batteria Non male Siamo sulle tre ore E qualcosa Dipende molto Da che ascolto Andate a fare Da che tipo di musica Ascoltiamo Se stiamo visualizzando film Chiamate Comunque di media Siamo sulle tre ore Quindi Non è una cosa fantastica Quasi a livello Delle Free Buds 3 Un pochino più Dei cloni Quindi anche in questo caso Batteria meglio dei cloni E stiamo pagando Praticamente lo stesso prezzo Quindi Batteria Tutto sommato Approvata E quindi sì Io non vi faccio perdere Molto altro tempo Perché avete capito Alla fine Che queste Realme Buds Sì Mi sono piaciute Valgono la pena Più che altro La qualità audio Mi ha sorpreso Ok Non abbiamo Quell'effetto super 3D Quell'audio caldo Ma chi se ne frega Stanno a pagare 45 euro È complicato Trovare qualcosa di meglio Abbiamo la modalità gaming Che ci annulla Praticamente Quasi Completamente Il delay audio Abbiamo delle buone Jazz Insomma Tutto sommato Ricarica wireless Type C Mi piacciono Ve le consiglio Se cercate qualcosa Di non in-ear Abbastanza economico Probabilmente compatibile Col vostro orecchio Loro Vi consiglio loro Di non in-ear Di non in-ear